Paolo Grimoldi, dalle indagini che sono in corso sull'Atac di Roma Capitale, si capisce dove vanno a finire i soldi che arrivano dal nord? È incredibile che Roma ha il record planetario di debito in capo a una singola città. Nonostante questo si candida ai giochi olimpici per chiedere altri soldi pubblici e in più veniamo a sapere che la più grande azienda di trasporto pubblico locale d'Europa, l'Atac con 12.000 dipendenti, un buco di bilancio impressionante, stampa persino dei biglietti falsi. Noi annunciamo un'interrogazione parlamentare sul tema, chiediamo spiegazioni su come è possibile questo e del perché mentre tutte le aziende di trasporto pubblico locale piangono, stringono la cinghia ma cercano di far fronte nell'elargire tra l'altro i servizi cittadini, l'Atac di Roma non pensa minimamente a nessun taglio e si permette anche scamotage per far sparire ulteriori soldi da un bilancio già gravemente in perdita e pagato con i soldi dello Stato, quindi tutti i contribuenti, soprattutto come al solito quelli del nord. Questo avviene dal 2007, quindi anche PD e PDL in qualche modo dovranno rispondere? Assolutamente, visto che hanno governato e governano loro. Tra l'altro leggendo gli importi si parla di una truffa di 70 milioni di euro l'anno, 70 milioni di euro l'anno è una cifra importantissima e che è assolutamente scandaloso che in questo momento di crisi economica ci siano delle realtà come quella di Roma che con beneficio, con l'ok, se vogliamo, delle istituzioni di chi governa si permette di fare questi giochetti per riuscire a fare una cassa fuori dalla cassa e sostanzialmente frodare il fisco ma frodare soprattutto i contribuenti del nord perché poi questi buchi di bilancio vengono compensati dallo Stato e quindi da tutti i cittadini che pagano le tasse sono quelli del nord. Detto questo le forze politiche di Roma sono gravemente responsabili di questa situazione di danno economico, di buco di bilancio e di debito record planetario come quello della città di Roma.